Capitano Patrizio Prato, partiamo da questa bellissima salute che va fatto il pubblico nonostante la sconfitta. E' veramente un bel omaggio che ci hanno fatto, il pubblico è stato veramente un fattore importantissimo per noi, ci hanno accompagnato qua in trasferta, è stato un bellissimo gesto. Penso che la squadra ha provato fino all'ultimo a rappresentare la città, la società e noi stessi nel modo migliore che si poteva, oggi la maré 70 perché l'eliminazione e poi perdere il supplementare fa male, però dobbiamo fare complimenti a Scaffati che ha fatto un'ottima serie, molto meno attrezzata, insomma noi ci abbiamo lottato e niente, volevamo veramente tornare a Scaffati e fare la bella. Avete recuperato quattro volte degli svantaggi di sei o più punti, siete anche riusciti ad andare avanti in un paio di occasioni, poi loro hanno sempre messo la zampata che vi ricacciava indietro. Sì, loro sono una grande squadra, candidata anche alla promozione, non stiamo noi a scoprirlo, sicuramente la squadra ha dato prova di coraggio, di carattere come è stato anche l'altro giorno, l'altro giorno meno sette a tre minuti della fine, anche oggi eravamo più o meno lì e l'abbiamo portato a supplementare. Purtroppo non è bastato, però niente, veramente sono, cioè se devo non pensare stasera all'amarezza dell'eliminazione, sono orgoglioso della squadra, dei miei compagni, dello staff, della società, il pubblico, veramente è stato fantastico e niente, aver fatto parte in questi due anni di un cambiamento, da una stagione di una sola vittoria a giocarci i play-off in un modo buono, veramente penso che abbiamo fatto un buon lavoro. Il gruppo è stato quello che ha fatto la differenza quest'anno? È stato molto importante il gruppo, ha sempre lottato, siamo stati sempre insieme, e niente, siamo... non riesco a non pensare all'eliminazione, però devo essere consapevole e non farmi coprire il bosco dall'albero e vedere che è stata veramente un'ottima stagione. Complimenti naturalmente che generale a tutta la squadra. Grazie.